11 settembre, ore 8, è pronta a suonare la prima campanella sull'anno scolastico 2024-2025. La chiamata sui banchi sarà per 45.000 studenti pesaresi di ogni ordine grado che cominceranno un lungo percorso di oltre 200 giorni che terminerà il 7 di giugno. Per le scuole superiori di Pesaro sarà una partenza praticamente a regime. Quest'anno sono state infatti sistemate le criticità relative agli spazi del campus che avevano reso complicata la partenza degli anni precedenti. Si cercano spazi per due aule dell'Agrario Cecchi ma la situazione è già in via di sistemazione. Per quanto riguarda le scuole medie, la situazione più delicata è quella della Manzoni di Villa San Martino sottoposta ad un maxi-cantiere di riqualificazione che non pregiudica però il rientro in sicurezza degli studenti a scuola come rassicurato dalla preside Loretta Mattioli nei giorni scorsi e come verificherà con mano il sindaco Biancani annunciato per domani alla prima campanella. Cantieri in corso che però non mancheranno per tutto il corso dell'anno. Vedi le ricostruzioni delle demolite Dante Alighieri e Anna Frank che porteranno i rispettivi studenti ad un altro anno di trasloco a Pesaro Studi e nelle aule ricavate nel centro civico di Vismara.